L'ora esatta è offerta da Ben ritrovati con la nostra informazione In primo piano la pagina dedicata al lavoro e all'occupazione Torino e il Piemonte sono al secondo posto in Italia Per ore di cassa integrazione richieste In provincia solo a Novara si registra un piccolo incremento di richieste Per tutte le altre c'è un segno meno rispetto al 2013 E' quanto emerge dai dati forniti dalla Will Sentiamo il servizio di Roberto Montereso Dal rapporto sulla cassa integrazione presentato dalla Will Emerge che Torino e il Piemonte sono al secondo posto in Italia per ore richieste In Italia nel 2014 sono state richieste complessivamente 1.111.766.399 ore di cassa integrazione Con una diminuzione del 6% rispetto al 2013 E una salvaguardia di oltre 540.000 posti di lavoro Nel 2014 in Piemonte sono state richieste 124.367.330 ore Con un calo dell'8,8% rispetto al 2013 La nostra regione è la seconda in Italia Dopo la Lombardia per volume di ore richieste I lavoratori tutelati sono stati in media 60.694 Con un calo di 5.906 unità rispetto all'anno precedente Da uno sguardo ai dati provinciali emerge che nel raffronto annuale Con il 2013 le ore richieste nelle province piemontesi sono state A Novara il più 0,1%, A Verbania meno 1,4%, Torino meno 4,7%, Biella meno 9,9%, Vercelli meno 15,3%, Alessandria meno 17%, Cuneo meno 25,1% e Asti meno 29,3% Torino con 78.472.579 ore richieste Nel 2014 diventa la seconda provincia più cassa integrata d'Italia preceduta da Milano E seguita da Roma e Brescia Il segretario generale Will Piemonte Gianni Cortese Non ha dubbi il 2014 si è chiuso con una diminuzione nella richiesta di ore di cassa integrazione Si tratta indubbiamente di un segnale positivo Che non deve però far abbassare la guardia e lancia l'allarme Nel 2014 il numero di ore richieste in Piemonte è stato superiore del 342% rispetto al 2008 Anno di inizio crisi Mettiamo perciò in guardia il governo sulla tentazione di limitare drasticamente le condizioni per il ricorso E la durata di questo importante ammortizzatore sociale La cronaca un giro di fatture create in maniera fittizia per gonfiare i costi e ridurre così il carico fiscale per l'azienda Questo è il trucco messo in atto da una società specializzata nei lavori di realizzazione e ripristino di infrastrutture ferroviarie E scoperto dalla direzione provinciale di Alessandria dell'Agenzia delle Entrate Sulla carta l'azienda aveva sostenuto dei costi per lo smaltimento di materiali pericolosi Commissionando questa operazione ad un'altra società Quest'ultima che avrebbe dovuto fornire la prestazione di smaltimento In realtà disponeva unicamente di un indirizzo e di una partita IVA Dai controlli è emerso che non aveva dipendenti, automezzi o immobili e nemmeno un'utenza elettrica attiva In realtà quindi non era un'azienda economicamente operativa E non aveva alcuna struttura per erogare effettivamente la prestazione di smaltimento illecitamente fatturata La vicenda si è conclusa con la conciliazione giudiziale tra l'azienda Alessandrina e l'Agenzia delle Entrate Stabilito l'esatto ammontare degli importi da sottoporre a tassazione Anche dopo la corretta definizione di alcune contestazioni minori La società ha versato 1 milione e 200 mila euro La giudiziaria Maurizio Grassano e Sergio Cavanna non andranno in carcere La Corte d'Appello ha sensibilmente ridotto la condanna per tentata truffa inflitta dal Tribunale Sentiamo Emma Camagna Molta alleggerite, essendo stata concessa la continuazione Per Maurizio Grassano, ex Presidente del Consiglio Comunale E Sergio Cavanna, imprenditore novese La Corte d'Appello di Torino Sentenziando nel processo di secondo grado Sul cosiddetto troncone bis delle cause a loro carico Truffa e tentata truffa al Comune Per le cospicue somme versate dall'ente pubblico alla vega Di cui Cavanna era titolare e Grassano direttore E per quelle non date perché bloccate dall'inchiesta Quali compensazioni del fatto che l'amministratore pubblico Sottraeva tempo e impegno all'attività privata Ha condannato entrambi a due anni e tre mesi ciascuno La pena che si riferisce all'attentata truffa È appunto in continuazione con quella a due anni e nove mesi Per la truffa invece consumata Poiché un anno è coperto da indulto La pena complessiva riguardante i due processi è di quattro anni Quanti ne bastano, osservano i difensori Luca Gastini e Alberto Genovese Per chiedere l'affidamento in prova degli imputati Ed evitare loro il carcere Con i difensori ha concordato il PM della Procura Generale In tribunale ad Alessandria le pene erano state molto pesanti Sia nel primo che nel secondo processo Occupiamoci adesso della vicenda del pensionato novese Che si tolse la vita Al processo a cinque medici che lo ebbero in cura Il PM chiede tre condanne e due assoluzioni Due assoluzioni e tre condanne a un anno ciascuno Le ha proposte il pubblico ministero Giancarlo Vona Al processo a cinque medici accusati di concorso in omicidio colposo Si presero cura di un pensionato novese di 72 anni Che visitato in ospedale Fu inviato in una casa di riposo a Basaluzzo Dove si suicidò cinque giorni dopo La soluzione è stata proposta per Pierangela Massacane E Maria Agnese Bilera Medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo di Novi La condanna per Paola Rossini e Fabio Totti Psichiatri e Luciano Arena, neurologo Per l'accusa i cinque sanitari non impedirono il suicidio Non eseguendo un'anamnesi completa E adeguato percorso terapeutico Circostanze categoricamente escluse In corso di indagini Quattro consulenti di parte hanno fatto sapere Che è quasi impossibile prevedere la volontà di un gesto suicida Il pensionato, affetto da disturbi psichici rilevanti Dopo essere stato tenuto in osservazione all'ospedale di Novi Venne dimesso e mandato alla casa di riposo Con la prescrizione di un programma terapeutico di continuità assistenziale Ma si buttò da una finestra e morì Un gas in colore, cambiamo argomento Il perfluoro isobutene, la sigla è PFIB È stato rilevato intorno alle 19 di ieri In un'area molto limitata Del reparto monomeri dello stabilimento Solve di Spinetta Marengo L'emissione della sostanza, si legge nella nota stampa emessa dal gruppo Solve È stata causata dalla fuoriuscita di una piccola quantità di polveri Presenti in un'apparecchiatura di processo Durante un'operazione di manutenzione ordinaria La situazione, si legge ancora, è stata prontamente gestita dai tecnici del reparto Senza la necessità di evacuazioni e senza alcun tipo di impatto per le persone e per l'ambiente Intorno alle 22, sempre in conseguenza dello stesso episodio Il sistema di sicurezza ha nuovamente segnalato una presenza di PFIB Anche in questo caso l'episodio è rimasto confinato nello stesso limitato settore dell'impianto monomeri Voltiamo pagina È stata raggiunta l'intesa per il nuovo contratto integrativo alla SKF La multinazionale dei cuscinetti a sfera con diverse sedi in provincia di Torino e di Asti Il contratto di secondo livello prevede aumenti salariali legati alla produttività E misure di welfare aziendale come il congedo matrimoniale per le coppie di fatto Più particolari nel servizio di Carla Ruffino Dopo la rottura che si è consumata tre anni fa quando la FIOM si rifiutò di firmare Alla SKF, l'azienda svedese che produce cuscinetti a sfera e occupa più di 2000 dipendenti in provincia di Torino È stato trovato l'accordo sul nuovo contratto integrativo A sottoscriverlo, questa volta saranno tutte le sigle sindacali L'intesa prevede incrementi salariali medi di 350 euro l'anno Legati agli indici di qualità, redditività e produttività aziendale Non solo, come spiega soddisfatto Federico Bellono, segretario della FIOM di Torino Sono previsti miglioramenti normativi per facilitare ad esempio i passaggi di grado Corsi di lingua inglese, cessione solidale delle ferie per i colleghi in difficoltà familiare E poi prestiti aziendali, la possibilità di anticipo del TFR e congedi per le coppie di fatto Questo dimostra, spiega Bellono, che è possibile fare accordi che prevedano miglioramenti per i lavoratori Senza ridurre i diritti e che lo si può fare unitariamente tra tutte le organizzazioni sindacali Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee in fabbrica e i lavoratori voteranno sull'intesa Plaude al risultato raggiunto anche Claudio Chiarle della FIM CISL E un eccellente accordo dice che ha visto prevalere le ragioni di chi fa sindacato con ragionevolezza Senza tentativi velleitari Soddisfatta anche la UIL e il sindacato autonomo FALI Che parla di un contratto innovativo e moderno che garantisce nuovi diritti Primo fra tutti appunto il congedo matrimoniale per le coppie di fatto Finisce sui banchi del Consiglio Comunale di Novi Ligure L'avvertenza degli autotrasportatori che da oltre sette mesi non percepiscono lo stipendio dall'ILVA Tutti particolari nel servizio di Enrico Maria Ha aperto l'ultimo Consiglio Comunale di Novi Ligure Tutti i consiglieri hanno manifestato preoccupazione per le situazioni creditorie dei fornitori del gruppo E solidarietà agli autotrasportatori Il sindaco Rocchino Muliere ha informato l'assemblea sulle diverse azioni intraprese dall'amministrazione già da dicembre Ed ha auspicato che in tempi brevi le istituzioni possano trovare una soluzione Per garantire il pagamento del progresso nei confronti degli autotrasportatori Ed evitare gravi ripercussioni sull'attività dello stabilimento Il Consiglio ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui si auspica che il decreto Posto in votazione questa settimana in Parlamento Possa essere il momento di svolta della situazione Il Consiglio infatti chiede che venga al più presto trovata la soluzione al problema Ed in particolare che gli autotrasportatori vengano pagati mediante il riconoscimento Dello status di creditori strategici del gruppo ILVA Ed anche il Partito Democratico Novese è intervenuto sulla questione Per il PD si sta raggiungendo un livello di criticità e allarme sociale non più tollerabili Da piazza 27 aprile si evidenzia la situazione delle famiglie dei dipendenti del gruppo Che stanno vivendo uno stato di angosciante incertezza I numerosi creditori che da più di 7 mesi non vedono saldate le ingenti pendenze dell'azienda E la crisi di tutto l'indotto che mette a repentaglio centinaia e forse migliaia di posti di lavoro Il coordinatore cittadino Diego Minetto ha dichiarato che il PD è vicino alle istanze di tutti i lavoratori coinvolti E sta mettendo a punto un testo che farebbe leva sul fondo di garanzia Per coprire buona parte dei crediti di tutti i fornitori Per l'indotto si sta invece cercando di sciogliere il nodo principale Cioè come e quando saranno pagati i lavori antecedenti l'ingresso dell'azienda nell'amministrazione straordinaria Il PD novese è certo che il governo nazionale ed i rappresentanti parlamentari del territorio Faranno il possibile per risolvere la questione della società ILVA L'assessore regionale piemontese alla cultura Antonella Parigi sarà ad Alessandria Per l'accordo di programma relativo agli interventi per il teatro comunale Chiuso al pubblico dal 2010 per la presenza di Amianto I lavori di bonifica proseguono ma ad oggi mancano circa 120 mila euro Per poter riaprire le sale più piccole Sentiamo servizio Il 2015 potrebbe essere l'anno della rinascita del teatro comunale di Alessandria Chiuso dal 2010 a causa della presenza di Amianto Quello che è stato uno degli indiscussi fiori all'occhiello del capoluogo di provincia Sta per vedere la luce in fondo al tunnel A maggio dovrebbe infatti concludersi la bonifica Ostacolata negli ultimi tempi da una serie di problemi tecnici Che hanno portato ad una situazione di stand-by Sia nella sala grande che nel plenum Che è il piano interrato sotto la pavimentazione Utilizzato come canale per il sistema di riscaldamento e raffreddamento La parola fine sugli interventi di bonifica non coinciderà però con la riapertura del teatro Arpa e Spresal dovranno effettuare le verifiche del caso E poi si potrà parlare di ripristino completo per la popolazione Ad oggi, come riferito in Commissione Cultura presieduta da Renzo Penna a Palazzo Rosso È stata completata la bonifica del palcoscenico che è di nuovo calpestabile Ora bisogna concentrarsi sul sistema di raffreddamento-riscaldamento Che verrà modificato e migliorato grazie ad una riduzione degli spazi E a un abbassamento dei volumi in sala Non sarebbe questa in sostanza una bonifica vera e propria Ha spiegato il direttore dei lavori Francesco D'Aquarti Ma una accurata pulizia Intanto si ragiona su una prossima e possibile riapertura al pubblico delle sale minori La Ferrero, la Zandrino e la Foa potrebbero alzare il sipario il prossimo dicembre La mente va ovviamente al ritorno di una stagione teatrale che tanto manca agli alessandrini E comunque l'intero complesso dovrebbe essere bonificato entro la fine dell'estate Potrebbe cambiare volto la platea Si parla di una riduzione a 300 posti Ma nel totale il teatro potrà ospitare 900 persone E c'è l'idea di spostare nella sede dello stesso Anche alcuni uffici comunali legati alla cultura e ad Alexala L'agenzia turistica locale La futura ripresa, seppur graduale, a teatro Significa buone notizie anche per gli ex lavoratori del TRA Che avranno una sorta di prelazione nella ripresa del lavoro Frutto di un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali Un punto importante perché questi lavoratori hanno dimostrato E' stato detto, grande attaccamento alla storia e alla cultura del teatro La sanità restano agitate le acque nel Tortonese e nell'Acquese Dove i sindaci si stanno muovendo per difendere il futuro dei loro ospedali Seriamente ridimensionati dal piano sanitario regionale piemontese Il servizio di Catti Porcento Da un lato c'è il primo cittadino di Tortona, Gianluca Bardone Il quale, facendosi portavoce degli stessi sindaci che avevano già aderito al ricorso originario Ha confermato allo studio legale che li segue la necessità di procedere a una nuova e separata impugnativa Dall'altro c'è invece l'assessore del comune di Acquiterme Guido Ghiazza Che, tacquino alla mano, sta calcolando come i tagli previsti dal piano sanitario regionale piemontese Potrebbero drasticamente pesare sul nosocomio Acquese La nuova riorganizzazione della rete ospedaliera prevede per la provincia il taglio di 226 posti letto Ha affermato L'ospedale Acquese, già depauperato in passato di 22 unità In seguito alla soppressione del punto nascite e della ginecologia Ad oggi ne ha 103 Con l'attuazione del piano c'è la reale possibilità che si scenda sotto la soglia dei 100 posti letto Con irrimediabili ripercussioni sui reparti di cardiologia e di rianimazione Rimarrebbero in attività le specialità di medicina generale, quella di chirurgia E probabilmente non verranno toccati i quattro posti del pronto soccorso La situazione è preoccupante, ha detto ancora Ghiazza In gioco c'è l'intero ospedale Insomma, intanto la carel per salvare i nosocomi della provincia di Alessandria Continua tra battute e ricorsi A Carnevale si sa ogni scherzo vale Ma con moderazione ad Ovada scattano una serie di ordinanze Contro le cosiddette burle di cattivo gusto Il servizio di Bruno Mattana Giro di vite con pesanti sanzioni del comune di Ovada In vista delle manifestazioni carnevalesche Contro gli episodi di malcostume che creano disagi E provocano danni a persone e cose Sono previste per i trasgressori sanzioni amministrative fino a 500 euro Salvo i casi di maggiore gravità che sforciano nel penale Quest'anno in vista delle iniziative per festeggiare il Carnevale A cui sono appunto legate le dannose trasgressioni L'amministrazione comunale ha anticipato i tempi Nell'adottare i necessari provvedimenti di salvaguardia Se prevalgono gli episodi di malcostume Premette il sindaco Paolo Lantero Nell'ordinanza da lui firmata Sul buon senso c'è il concreto rischio Che si verifichano episodi pericolosi Nei confronti delle persone, delle cose Degli arredi di proprietà pubblica, privata Addirittura trubbando nel contemplo L'ordinario sforgimento della vita cittadina Insudiciando inoltre fabbricati e monumenti Sia pubblici che privati Non sono sanzioni pecuniarie Perché l'ordinanza prevede, come si è detto Ipotesi di reato da codice penale Da sottolineare che il periodo dei divieti Va dal 14 al 21 febbraio Periodo in cui a Dovada, a costa Dovada e Molare Si svolgevano ben tre manifestazioni Per festeggiare il carnevale E domenica 15 in contemporanea Ovade e a Molare Per questo però Sava il sindaco di tale comune Nivea e Salbertelli A emettere un'ordinanza restrittiva Ed ora la lunga serie di divieti Incominciando dalle bombolette spray E altri materiali idonei Ad arriccare danno Pericolo a persone, cose e beni Entriamo nel merito Bombolette contenenti sostanze filanti Imbrattanti, schiumogene, urticanti Irritanti e simili Materie diverse ate ad imbrattare e simili Materie diverse ate sempre ad imbrattare Quali coloranti vari Uova, farine, polveri, creme, eccetera Altra idonea da arriccare danno alle persone Cose, beni immobili ed immobili Norma valida anche nei confronti Dei carri allegorici e maschere Dei monumenti storici e delle vetrine dei negozi C'è proprio tutto Per dare lo stesso maggiore autorevolezza L'ordinanza è stata inviata anche in prefettura All'ufficio territoriale del governo La pagina sportiva, il calcio, gara di recupero Questo pomeriggio tra Dertona e Prosettimo Finita con una pesante sconfitta dei Leoncelli Per sei reti a zero Questa sera con fischio d'inizio alle 20.30 Si giocheranno invece i campionati di promozione E seconda categoria Multate Pavia e Alessandria Per lo scoppio di alcuni petardi Durante l'incontro di domenica scorsa La società dei grigi ha annunciato che non intende però fare ricorso Tra poco il servizio Poi il meteo E le notizie utili Grazie per essere stati con noi E arrivederci alle prossime edizioni Grazie per essere stati con noi Grazie per essere stati con noi